Sì, con lo spirito giusto, consapevole di dove andiamo a giocare, ma consapevole anche della nostra forza. Io credo che abbiamo lavorato bene, stiamo costruendo qualcosa di importante. Sono convinto che da stimolo, io penso che giocare per me è sempre stimolo. Io, come ho detto prima, un tuo collega per me è giocare, è l'Avellino che gioca, l'Avellino gioca in tutti gli stati, per me è sempre Avellino. Vorrei che i miei capissero quanto sia importante indossare questa maglia, ma voglio dire che andiamo a Frosinone, ma dobbiamo giocare come se giocassimo in casa, perché sono convinto che possiamo ottenere un buon risultato. Guarda, io Moretti sta bene, Moretti sta bene, Marchizza sta bene, Rado aveva un risentimento, ma oggi l'ho visto bene. Insomma, però vi dico subito che gioca Lezzerini, perché io vado avanti per la mia strada, che è quella giusta. Non perché Rado, perché l'ho visto solo oggi. Lezzerini, secondo me, ha fatto bene e gioca lui. Per quanto riguarda Marchizza, vediamo un attimino domani, ho ancora una giornata per poterlo... Per quanto riguarda Bedawì, io penso che Bedawì possa giocare anche a seconda punta, possa giocare bene anche nel 4-4-2, il mio, quello dove sono nato, nella mia vita, però io credo che domani ci sarà spazio anche per lui, o primo o secondo tempo. Ma, ripeto, devo vedere domani, perché oggi, onestamente, Cresici l'ho visto bene insieme a Migliorini. Sono due giorni che ci sto lavorando, però ci sto lavorando anche con Marchizza, devo dire. Vediamo, vediamo domani. Ma guarda, non è questo. Falasco è un giocatore che deve farmi vedere anche le cose, capito? È un giocatore che ha qualità, però è un giocatore che ha patito quella partita con Cesena. Io sono qua come allenatore, ho il dovere di recuperare un po' tutti, insomma. Ma ecco, volete la formazione? Ve la dico, dai. Ma io dico che domani è difficile, una partita difficile, una partita importante per noi. Però Castato sta facendo bene, sta facendo bene il Bedawì, però sono convinto che partendo da una maniera e da un'altra possiamo far bene lo stesso. Ripeto, sono i giocatori che stanno bene tutti. Ripeto, sono i giocatori che stanno bene.